Come ogni anno organizziamo dei controlli straordinari del territorio. Ovviamente siamo aiutati dalla Questura di Napoli, in quanto Ischia è una meta turistica, sia da parte di turisti stranieri che da parte di cittadini provenienti dall'Inter la Napoletano. Quindi il flusso turistico aumenta notevolmente e quindi di conseguenza anche il nostro lavoro aumenta. E' necessario quindi un aiuto da parte della Questura di Napoli, cosa che quest'anno il Questore ha inviato sia il reparto prevenzione dei crimini in Campania che la squadra nautica, proprio per aiutare noi sul territorio controlli anche in mare. Abbiamo notato che a livello statistico sono aumentati molto gli incidenti anche via mare e quindi la necessità di fare un controllo capillare anche via mare. Di fatti la squadra nautica, anche cosiddetta volante di mare, il loro scopo non solo è quello di controllare le coste a tutela dei bagnanti ma è anche quello di controllare pregiudicati provenienti da mare, quindi sui gommoni o su imbarcazioni da diporto in ausilio a noi e al controllo che facciamo a terra. Un controllo, diciamo, a 360 gradi perché poi sul territorio, voglio dire, la lotta allo spaccio degli stupefacenti, le risse, insomma ce n'è per tutti i gusti. Certo, certo. Il nostro controllo che ovviamente io coordinando anche le altre forze dell'ordine presenti sul territorio che insomma anche loro sono presenti, c'è da dire, sul territorio. In ogni caso cerchiamo di svolgere la nostra attività H24. Siamo sempre presenti. La mattina ovviamente svolgiamo un controllo mattina e pomeriggio prevalentemente sugli obiettivi portuali, sul porto di Ischia, Casamicciola, Forio. Dopodiché di pomeriggio prevalentemente sulle arterie più importanti come posti di controllo e poi sulla sera e sulla notte svolgiamo dei controlli prevalentemente dove c'è la movida serale e notturna presso i locali esercizi commerciali. Se dovessimo tentare così a naso un primo bilancio, un confronto rispetto all'estate passata, ci sembra che quest'anno le cose stiano andando un po' peggio, cioè vi stia dando più lavoro o sbaglio? Ma forse sono aumentati i cosiddetti indesiderati, perché ho notato che qui comunque sull'isola così vengono chiamati. Sarà la crisi, sarà per altri motivi ovviamente come ho detto prima, l'isola d'Ischia comunque stando molto vicino a Napoli ovviamente è facile raggiungerla, quindi è una meta molto appetibile anche da parte di queste persone. E comunque peggiore rispetto agli altri anni no, però più presenze di pregiudicati. Però voglio dire che stiamo facendo fronte bene a tutte le situazioni. Ripeto, i controlli maggiori prevalenti sono sulla sera. Fuori ai locali, serali e notturni, ci alterniamo sia noi che i carabinieri. Stiamo cercando di svolgere comunque un ottimo lavoro in sinergia, perché ripeto, sull'isola comunque siamo prevalentemente noi e quindi dobbiamo dare il massimo proprio per evitare di trovarci scoperti su questi orari.